E' partita da Piazza Castello a Torino la raccolta firme promossa dai radicali e dalle associazioni laiche a sostegno della proposta di legge ed iniziativa popolare sull'eutanasia legale e sul testamento biologico. Questo è un paese che non vuol mai discutere di questioni etiche, ha discusso per il suo tempo per molti anni sul testamento biologico, fendendo poi senza fare nessuna legge. Noi crediamo che il primo vero sia quello della legalizzazione dell'eutanasia, di poter decidere della propria vita ovviamente con dei paletti. Il progetto di legge che noi presentiamo è analogo a quello che già c'è in Olanda, in Belgio, in Lussemburgo, si ispira un po' anche a quelle che è la tradizione in Svizzera e riproduce sui temi del fine vita quello che è il dibattito nei grandi paesi europei. L'Italia è sempre un po' il faglio di coda, noi pensiamo che un'initiativa popolare, quindi un progetto di legge presentato con il sostegno di decine di migliaia di firme sia il modo migliore per chiedere al nuovo Parlamento, a questo o a quello che verrà, se dovesse essere cambiato in fretta, di affrontare questo tema senza indugi. Su queste cose io spero che il Parlamento dia veramente un buon consenso alla cittadinanza, che sta firmando veramente con molta convinzione ai nostri tavoli, per esempio raccogliere come a Trieste 180 firme in tre ore è veramente un grande successo, o ieri a Torino 132 firme in due ore è veramente tanto. Ecco, quindi io spero che il Parlamento abbia questa volta il buon senso di fare una legge di utilità per i cittadini che la chiedono, perché nessuno è costretto di farlo, di fare l'eutanasia, di non chiedere, di non, ma anche di chiedere di essere curati. A Torino si può firmare all'URP del Comune in via Palazzo di Città 9 e in tutte le circoscrizioni.